Andrea Gessa l'anno scorso parlavamo proprio qui al 20 Beach la tua partenza verso Frosinone poi la sua rinota a tutti a gennaio sei tornato per poi a prendere gli scarpini al chiodo quando hai deciso di diventare team manager? ma è stata una decisione velocissima perché diciamo appena finito il campionato comunque giù di lì c'è stata l'offerta appunto del presidente Sebastiani della società Pescara Calcio in generale è stata una cosa che nel giro di 15 giorni ho deciso che però comunque bisogna dire che era un po' di tempo che il presidente mi diceva che sarei entrato a far parte di questa famiglia e ha mantenuto la parola ecco col tuo ruolo puoi avere un occhio critico un po' sul Pescara Calcio in generale se tu potessi consigliare un acquisto in queste ultime fasi del mercato chi divesti? ma no io al di là del fatto che sono un ex giocatore in questo momento mi occupo di altro e quindi diciamo i giudizi tecnici li lascio come sempre ai direttori e all'allenatore in primis quindi io diciamo in questo momento non mi sento di dire nulla prossimo impegno imminente in Coppa Italia con il Torino un déjà vu obiettivi per la prossima stagione sia in Coppa che in campionato? ma l'obiettivo personale è quello di far filare liscio il campionato cercare di di non far mancare nulla ai calciatori in primis e poi di conseguenza alla società cercare di portare magari anche io qualche punticino perché credo che tutte le componenti dello staff in generale della squadra quindi non solo giocatori e allenatore ma proprio in generale l'organizzazione porta comunque dei punti e stiamo lavorando in questa direzione per concludere l'anno scorso diciamo appunto che hai scelto Pescara ti sei innamorato di questa città di questa terra la spinta maggiore che ti ha dato il motivo principale per cui hai scelto di venire qui con la famiglia qual è? beh sicuramente l'amore per il mare e il fatto che qui abbiamo conosciuto persone che ci hanno aiutato che ci che ci sono state vicine in tutto prima per il calcio poi comunque anche ora per l'attività dobbiamo ringraziare la famiglia Sterlecchini che insomma di Acapulco Beach che ci ha insegnato tutto e ancora ci sta seguendo perché comunque sia inventarsi un mestiere da zero non è facile quindi nell'attività e ora nella mia nuova veste insomma sono in una fase di rodaggio nel senso di apprendimento e però come ho sempre fatto darò il massimo sia per appunto per il pescara calcio e chiaramente anche per per questa attività nuova a Silvi diciamo in fase di rodaggio però con uno sguardo al passato a rigorosa tinta bianca azzurra vabbè certo questo non lo dimentichiamo mai anche se non mi piace fare spot pubblicitari non ho mai chiesto non mi piace però incomincio a vedere che il posto sta piacendo sempre di più anche ai tifosi pescaresi e ai cittadini pescaresi perché ora magari si cerca un posto dove stare bene dove fare il bagno in modo sicuro e dove comunque stare magari più rilassati che nel nel caos dove si ricerca magari un po' più la qualità che la quantità ecco questo è un po' l'impronta che io volevo dare al locale che sicuramente magari con un po' di fatica iniziale c'è e ci sarà però credo che sia un must vincente che mi possa portare lontano